Una caccia al tesoro tra le verdi montagne di Farindola. L'Agbe chiama in raccolta tutti i sostenitori del territorio per i suoi piccoli pazienti, i bimbi affetti dall'eucemia. L'associazione, con una storia più che decennale, continua ad offrire gratuitamente ospitalità alle famiglie dei bimbi impegnati nelle lunghe degenze ospedaliere. E per farlo organizza una nuova raccolta fondi, nel suo inconfondibile stile. Quello dei sorrisi, della festa, della condivisione e della semplicità. Il giorno di Ferragosto, volontari, genitori, amici e tutti coloro che vorranno vivere una giornata speciale e conoscere da vicino la famosa associazione, avranno a disposizione uno dei paesaggi più caratteristici d'Abruzzo. Partenza dal centro sportivo di Farindola, ore 10 per la caccia al tesoro, che farà attraversare l'antico borgo cittadino, per poi concludere la corsa in uno dei rifugi più appetibili della zona, per il meritato pranzo di festeggiamento. Tutto condito da allegria, splendidi paesaggi e un clima familiare capace di far sentire tutti a casa. Un nuovo traguardo da raggiungere per l'associazione, che vanta ormai una casa alloggio gratuita per l'accoglienza delle famiglie, un reparto dedicato esclusivamente ai bimbi e un ostello, proprio a Farindola, per la deospedalizzazione dei bimbi, che per tanti mesi hanno vissuto al chiuso di un ospedale. Grazie.